Approfittando delle feste dell'Epifania, un gruppo di giovani sono entrati nell'edificio della piscina comunale danneggiando le porte d'ingresso. Hanno fatto il bagno in vasca e dopo aver buttato una bicicletta di un custode in acqua hanno iniziato a rovistare nei cassetti degli uffici. Dentro un cassetto hanno trovato 17 mila euro, il provento degli ultimi incassi che per circostanze ancora a decarire è rimasto nell'impianto. All'interno della piscina c'è un sistema di videosorveglianza che avrebbe ripreso l'incursione vandalica avvenuta in piena notte. La denuncia di furte è stata presentata alla polizia, una porta dell'impianto sportivo sarebbe stata lasciata aperta. Solitamente gli incassi derivanti dal pagamento del biglietto d'ingresso vengono consegnati ai vigilanti privati e versati in tesoreria. Stavolta durante le feste l'ingranaggio deve essersi inceppato e alla fine l'azione vandalica si è trasformata in un grosso furto. La polizia sta esaminando i filmati ma c'è un'indagine interna del comune sulla mancata custodia del denaro.